Il sindaco di Genova Il signor Scorza che ringrazio ha seguito con attenzione la trasmissione e interviene nel merito del tema della sovrapposizione di linee di AMT. Noi abbiamo come sappiamo tutti come amministrazione comunale e proprietaria di AMT due esigenze da conciliare, quella di garantire un servizio adeguato e quella anche di contenere dei costi perché il conto di AMT lo paga il comune e quindi lo pagano i cittadini in ultima battuta oltre ai contributi che si ricevono dalla regione. Quindi l'esigenza di contenere i costi, di rendere razionali le linee evitando sovrapposizioni è essenziale ed era stato il tema per cui si è discusso della linea 14 che si ferma adesso a Brignole, non prosegue più verso Piazza dei Ferrari perché ci sono altre linee. Il signor Scorza dice le linee colinari 39 e 40 perché non c'è un'unica linea visto che sono sovrapposte sino alla rotonda di Oregina e la frequenza potrebbe essere unica e il tragitto unico come quello del 640. In realtà che accade? Accade che nelle fasce serali il 39 e il 40 raggiungono normalmente in orario diurno, arrivano sino alla rotonda di Oregina e poi c'è una biforcazione per cui il 39 va verso via Vesuvio e il 40 va verso via Costanzi e quindi hanno una cadenza più frequente del 640 che sostituisce entrambe le linee e poi arrivata alla rotonda di Oregina e poi arrivata alla rotonda di Oregina percorrono il 640 ha una cadenza più lenta perché copre un fascio orario dove c'è meno affluenza, meno necessità e una volta va in via Vesuvio, una volta va in via Costanzi. Quindi rendere diurno questo tipo di orario significerebbe una riduzione del servizio, aumenterebbe i tempi di attesa e in questo momento non intendiamo farlo perché preferiamo ancora garantire questo servizio, sforzarci di garantire questo servizio. Poi ancora segnala il signor Scorzo un secondo elemento di attenzione, in uno snodo incrocio Corso Firenze, Corso Ugo Bassi, Corso Dogali, proposta di creazione di una rotonda di incrocio delle tre vie in modo da consentire una maggiore facilità di circolazione dei mezzi. Noi abbiamo cominciato a fare un primo accertamento, non sembra sufficiente che però lo spazio complessivo di questo incrocio consenta di installare una rotatoria che ha bisogno comunque di una certa superficie per poter essere collocata. Ecco, devo dire che questa domanda e la sua risposta offrono adesso per una piccola sottolineatura, cioè per capire quanto poi sia complicato strutturare e organizzare un servizio come quello del pubblico trasporto, perché appunto poi basta veramente una minima cosa per creare un disservizio per aumentare i disagi, o invece con la scelta fatta per esempio sul 39 e 40, invece quella di mantenere una qualità di servizio importante. Certo, e poi ripeto, ha ragione, è complicatissimo. Perché spesso non ci si rende conto. No, a Genova devo dire che è davvero più complicato e anche più costoso che in altre grandi città per la conformazione del territorio. Torino, Milano, Roma non hanno queste linee collinari, non hanno strade così strette dove transitano i mezzi pubblici. Ecco, a Genova questo invece avviene e questo complica l'organizzazione della rete del trasporto, crea degli aumenti dei costi, che questi sono oggettivi, al di là dei risparmi che si possono ottenere, e che è giusto ottenere in tanti altri modi, è una specificità genovese. È anche un elemento, se vogliamo, di bellezza della nostra città. Facciamo per dire purtroppo da una parte, ma fortunatamente dall'altra. Si vede l'immagine dietro di me, di queste colline, e per raggiungere con i mezzi pubblici i quartieri collinari, ecco, a Genova lo sforzo deve essere maggiore. Senta, invece Angelo Trotti pone un problema che immagino sia molto sentito in diverse zone della città, e cioè il fatto che a Sestri Ponente, improvvisamente, dopo alcuni aggiustamenti sul traffico, sulla mancanza di parcheggi, siano cominciate a fioccare multe veramente. Parla il signor Trotti di Via Sant'Alberto, anche qua un po' nelle alture a Sestri Ponente, una strada dove ci sono ovviamente problemi di parcheggi, come in molti altri luoghi, e segnala che gli addetti, gli ausiliari del traffico, che da MT collaborano con il Comune, hanno dato delle multe nella zona, rendendo in Via Sant'Alberto, fa delle segnalazioni specifiche, anche oltre che di multe combinate per soste non corrette, di paletti che sono stati posti lungo la strada, in alcuni casi che hanno limitato dei parcheggi. Noi abbiamo fatto una verifica, l'abbiamo fatta per il mese di novembre, per tutto il novembre 2013, per capire quante multe fossero state date in Via Sant'Alberto. Sono state date sette, ci risulta che siano state date sette contravvenzioni, una per divieto di fermata, quattro per sosta su fermata del bus, dove ci sono le linee che delimitano la fermata del bus, dove i veicoli non possono essere parcheggiati, e due per sosta in curva. La sosta in curva, anche se manca la segnaletica che vieta la sosta, è comunque vietata dal codice della strada, per cui non si può lasciare la macchina in curva, in strade, perché questo è vietato dal codice della strada, anche quando manca una segnaletica che vieta esplicitamente la sosta. Addirittura, per quanto riguarda i paletti sistematici che hanno fatto saltare alcuni posteggi in Via Sant'Alberto, in un caso sono stati posizionati regolarmente laddove mancava proprio un marciapiede, per creare uno spazio tipo marciapiede, in prossimità della scuola materna ed elementare Renzo Pezzani. Abbiamo rilevato che in effetti invece altri paletti sono stati sistemati abusivamente e adesso verranno rimossi. Benissimo, qui cambiamo completamente argomento, anche perché viene sottoposto un tema più di metodo politico anche nell'affrontare le cose. e il signor Giorgio dice, ho letto di un incontro segreto fra il sindaco Doria e i vertici della comunità islamica a proposito della moschea, ma perché bisogna fare incontri segreti quando invece poi si tratta di argomenti di pubblico interesse? Allora rispondo al signore che effettivamente ha avuto un'informazione falsa, quindi io non faccio incontri segreti, io quando ricevo delle persone le ricevo nel mio ufficio a Palazzo Tursi, tutti coloro che parlano con me fanno richiesta di incontro, ovviamente devo selezionare perché non sono in grado, dovendo lavorare, di ricevere tutti quei, ma coloro con cui mi incontro mi vedono nel mio ufficio, entrano passando davanti ai vigili che stanno al portone di Tursi, chiedono il cartellino che viene dato ai visitatori, lasciano un documento e poi accedono agli uffici, quindi non c'è nulla di segreto perché non ho nulla di segreto da fare, tutto quello che faccio lo faccio nella maniera trasparente, quindi A, non ho avuto nessun incontro segreto, ho avuto degli incontri chiari, noti, trasparenti, per discutere di come la comunità islamica, i cittadini genovesi di fede islamica stanno in città, possano esercitare il loro diritto di culto in un luogo degno di questo nome, questo è l'argomento di cui in maniera pubblica, anche in altri contesti pubblici ho avuto occasione di parlare, ho avuto occasione di parlare anche nel mio ufficio con i rappresentanti della comunità islamica. Senta, questo argomento mi dà l'occasione per rapidamente chiederle un'opinione sul fatto che da domenica il Partito Democratico ha un nuovo segretario nazionale, ha vinto Renzi e sembra che le cose, almeno nei primissimi giorni da leader, alcune cose le stia davvero cambiando, per esempio l'orario di riunione della segreteria, 7 e mezzo del mattino anziché le 10 e mezzo, ma questo ovviamente è un elemento che poi suscita più la fantasia di noi giornalisti che non delle cose concrete, ma lei come vede questo passaggio un po' epocale devo dire, perché anche la segreteria è molto giovane, quindi insomma… Sì, due o tre elementi che mi sembrano importanti da sottolineare, il primo, le primarie erano per gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico, io che sono una persona di sinistra, sono un indipendente, per rispetto degli iscritti e degli elettori del Partito Democratico, ho seguito con grande attenzione tutta la vicenda primaria, ma non l'ho votato, c'è anche il mio ruolo istituzionale, che in questo caso mi suggerisce di non ingerirmi nelle vicende di un partito, al quale però guardo vicenda, alle quali guardo con grande attenzione. Il principale partito della sua maggioranza? Il principale partito del centro-sinistra è il fondamentale partito del centro-sinistra, allora il primo punto è la partecipazione alle primarie, quasi 3 milioni di persone lo ritengo un grande fatto di democrazia vera, cioè milioni di persone che si mettono in coda perché vogliono esprimere in maniera pacifica, che pagano 2 euro, in maniera pacifica, democratica, la propria convinzione, questo è un grande fatto di democrazia, che quindi affida a Renzi e anche al Partito Democratico una grande responsabilità, nel senso che devono dimostrarsi capaci di tradurre infatti delle aspettative. Secondo elemento, io penso che come lettura di questo fenomeno, oltre a questo dato della grande partecipazione democratica, primarie vere, non online con 150, 200, 2 mila partecipanti che poi servono per scegliere i parlamentari. Questo è per Grillo. Questo è per tutti coloro che non sono in grado di far partecipare a una consultazione democratica milioni di persone come è avvenuto. Questi milioni di persone secondo me esprimevano, e anche il tipo di candidati che c'erano, una volontà un po' di rinnovamento, al di là del discorso dell'età, un ringiovanimento anagrafico è importante. E questo, qualunque partito si deve porre il problema. Quando vediamo dei vecchi leader... E questo è per forza Italia. Quello è una persona che è un nonno di più di 70 anni che ha governato l'Italia per anni e anni e anni e quindi ha una bella quota di responsabilità sulla situazione in cui siamo. Terzo elemento, il lavoro sui contenuti. Nel senso che la competizione, io penso come spesso succede le competizioni per le primarie, sono delle competizioni molto importanti, perché comunque contribuiscono a stabilire un legame tra la politica, la partecipazione e i cittadini. Non basta. E le primarie, lo dico avendole fatte anch'io come candidato sindaco a Genova del centro-sinistra, non bastano per far emergere sempre e comunque i contenuti, le proposte, come si affrontano i problemi dei comuni, come si affrontano i problemi del rilancio dell'economia, come si affrontano i problemi del bilancio dello Stato, della tutela dell'ambiente e di investimenti rispettosi dell'ambiente. Ecco, questo è il compito che spetta a Renzi, il compito che spetta nel loro piccolo ai sindaci dei grandi e piccoli comuni, spetta a tutti e spetta anche alla sinistra, al centro-sinistra. Benissimo. Sindaco, io la ringrazio, siamo arrivati al termine, anzi abbiamo un pochino sforato rispetto ai tempi normali. Vi ricordo che per inviare le vostre domande potete spedire una mail all'indirizzo sindaco-primocanale.it, auguro una buona giornata a lei, invito i telespettatori di Primo Canale invece a rimanere sintonizzati sulla vostra televisione. Buona giornata a tutti. Grazie.